Senta Barro, lei come vede le elezioni comunali a Portogruaro alla luce anche di questi risultati? Alla luce anche dei risultati delle provinciali dell'anno scorso lei ha già espresso un suo parere, però Rabuschi si professa molto ottimista, è ottimista anche lei? Ma io per natura sarei sempre ottimista, però in questa considerazione qua è estremamente difficile fare delle considerazioni che vadano al di là, a mio giudizio, della banalità. Se noi prendiamo i neonumeri, i stretti numeri, facciamo una somma, loro hanno già vinto e chiaramente se confermano questi numeri... Loro in regione. Loro in regione, ma anche se vengono confermati questi numeri a livello comunale, chiaramente hanno stravinto. Però abbiamo visto che molte volte a livello comunale le persone ragionano in maniera diversa da parte nostra. Sicuramente ci sono stati anni di buona amministrazione, altre cose si potevano fare, altre cose si possono migliorare. Però sicuramente la gente penso ricordi anche questo. Al comunale molte volte non ci si identifica in maniera precisa con un partito, ma ci si identifica con le persone. E questo è il valore aggiunto che Portoguraro ha sempre avuto in questi anni. Grazie. Grazie. Grazie.